Vau, c'è vero che era uno stress, tu che torcio. Eh? Era uno stress, adesso come faccio? Non vorrei filmare tutta la partita? Ah, allora, ma che stress? Su, no! Tutta tutta! Quando vai in attacco... Come faccio il percorso del fogone? Quando vai in attacco? Ecco adesso! Si metti il tuo faro eh? Si può anche essere stato in attacco, se vuoi Chiara. Eee! Grandola! Eee! 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 Oh ma... Però... Però non mi è nata assurda. Vabbè Diego... Ti devi mettere con la te...